Formidabile, di grande fede, con un talento, un dono stratosferico, una voce veramente che scioglieva i cuori. E questa era una canzone che effettivamente la poteva fare solo lui, perché c'ha un'estensione tale che io, a chi la canta, auguri. Io affido la voce oggi, per cui manco volendo. Ah, ecco, la canta una donna, per cui immaginare che lui arrivava altissimo, per cui c'era un'estensione favolosa. Ve la dedichiamo tutta e lui canterà dal cielo e ci aiuterà, canterà con noi e farà festa con noi. A lui! Alleluia! Quello che volevo dire io è che questo è un canto in cui stiamo veramente molto affezionati, tutti, noi, qui. Quando è un momento di gioia, questo è il canto preferito per noi, che lo eseguiamo. Quindi vorremmo che anche questa gioia arrivasse a voi. Da oggi sono anche i vostri canzoni, sicuramente. Era bellissimo con Luis cantare questa canzone sugli autobus di Roma, mentre nella giornata mondiale della gioventù la cantavamo in giro per Roma. Era come diceva lui, un cavallo di battaglia. Era bello, è bello ricordare Luis, detto Luigino, con un sorriso. Ricordo che dopo le scorribande in giro da Roma nel cantare al Signore questi canti, tornavamo a casa e ci tenivamo a mettere le pasta al forno. Diciamo, era stupendo. È bello quelli di portare con il sorriso Luigino. Ciao! E la giornata me la pregate? La Roma? Sì! La Roma? E il Signore me la prezza? La Roma? La Roma? La stessa? La Roma? Manta disse, mio signore, sono tutte le due creature, specialmente fra il sole, e dai luce al giorno perché ci illumina per la sua volontà, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.